La bellezza è una benedizione. C'è anche chi però di quella bellezza non sa che farsene. Il classico bello che non balla. Ma c'è chi con quella bellezza costruisce un mondo imprenditoriale e di valori. Ed è il caso del nostro ospite di oggi, il fashion influencer per eccellenza, Mariano Divaio. Ciao a tutti!